Sono nei Challenger, quindi nelle finali sono riuscita, incredibilmente, a qualificarmi per le finali che si chiamano Challenger, esatto, del Qualifier, e quindi adesso ho la possibilità di qualificarmi per il Freeride World Tour. Lo snowboard non è un semplice sport. Lo snowboard è un cazzo di stile di vita. E tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un Pro. A meno che tu non abbia sbagliato podcast, se stai ascoltando queste parole vuol dire che ami lo snowboard. E se ami lo snowboard, allora vuol dire che ami andare in fresca, altrimenti fate qualche domanda e comincia ad andarci. E se ami andare in fresca, vuol dire che almeno una volta hai sognato di approcciare il mondo del Freeride. E beh, in questa puntata parliamo proprio di Freeride e lo faremo con un ospite di eccellenza, Giulia Bottazzin, snowboarder veneta che vive ad Innsbruck e che attualmente è in lizza per entrare nel Freeride World Tour. In questa chiacchierata abbiamo parlato proprio del Freeride World Tour, di come funziona, di come si accetta al circuito, del perché può essere l'occasione perfetta per chiunque ami davvero il Freeride. Perché, beh, il perché lo scoprirai ascoltando la puntata. Se hai sempre sognato di entrare nel Freeride World Tour, o se ami il Freeride e stai cercando un modo per approcciarlo al meglio, o se semplicemente ami lo snowboard e vuoi passare un'oretta a sentire due altrettanto innamorati di questo stile di vita che ne parlano insieme, allora sei nel posto giusto. Buon ascolto! Vabbè, partiamo da capo. Ciao Giulia, come stai? Allora, siamo qui con Giulia Bottazzin. Bottazzin, è giusto che dire? Bottazzin. Bottazzin, due tiri e zeta, ma lo sbagliano sempre tutti, quindi... Ok, ok, no, ma per i marchigiani le zeta sono sempre un po' strano. Senti, allora, ciao Giulia. Ciao. Ciao, bello averti qui. Io ti ho conosciuto qualche settimana fa, qualche mese fa ormai. Sì, forse ormai. Mi sento in soggezione perché adesso sto parlando con una challenger a tutti gli effetti, ecco. Ma no. E tra poco capiremo bene cosa vuol dire challenger e perché mi sento così in soggezione a parlare con te, sto scherzando. Allora Giulia, raccontaci un po' chi sei, cosa fai, qual è il tuo sport preferito e perché proprio lo snowboard ci dai. Ok, beh, grazie intanto per avermi invitata nel tuo podcast. Io sono di... mi chiamo Giulia Bottazzin, ho 29 anni e sono di Vicenza, provincia di Vicenza. Però da tre anni, sì, più di tre anni vivo a Innsbruck. Ho iniziato ad andare in snowboard forse 15 anni fa, non ricordo neanche bene l'età precisa, un po' per caso. E poi la passione è cresciuta sempre, cioè la passione è cresciuta man mano e niente. Mi sono ritrovata a un certo punto... ho fatto il corso maestri, cioè ho deciso di fare il corso maestri, e diventare maestra in Veneto e poi, sì, diciamo che quello è stato un po' un modo per me, almeno per entrare un po' di più nel mondo dello snowboard e nella community, diciamo. E da lì, sì, erano già un po' di anni che pensavo di fare queste gare di freeride e mi aveva sempre attirato la cosa e quindi poi volevo iniziare 2020, poi è arrivato il covid, come sappiamo tutti. E niente, alla fine, quando mi sono trasferita a Innsbruck, ho detto ok, adesso vado, inizio e provo a fare qualche gara del qualifier, vediamo come va, vediamo se mi piace e niente, così ho iniziato un po'. In che anno hai iniziato nel qualifier? Alla prima stella, no? Dopo adesso ci spiegherai come funziona. In 2000 ho fatto, questa è la terza stagione che faccio nei qualifiers, quindi... Quindi 21-22, 21-23 e 24-24. Con lo sport invernale ho una palla perché devi sempre contare il doppio. 4-3 anni. Sempre stagioni a cavallo degli anni. Figo, in 3 anni sei nei challenger. Allora, 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 passo indietro perché già sennò chi ci sta ascoltando dice ma di che parlare, ma che roba. Allora, cosa sono... Allora, intanto, cos'è il Freeride World Tour per chi non conoscesse questo circuito? Allora, il Freeride World Tour è un circuito internazionale, cioè è il circuito internazionale di freeride, sci e snowboard. Al pari della FIS, diciamo, al pari della Coppa del Mondo, no? Sì, esatto. E tra l'altro adesso, dall'anno scorso, rientra... cioè è stato acquistato da FIS, quindi anche il Freeride World Tour è sotto la FIS, sì. Ricordo che c'era una specie di... non dico uno shitstorm, ma qualcuno è bene di dire... Sì, sì, c'è stata una polemica... cioè ci sono state diverse polemiche a riguardo. Io non ho mai fatto gare al di fuori di... sì, ho fatto qualche contest di freestyle. Avevo provato anche border cross, però sì, ho fatto un anno, mi ero iscritta con uno sci club. E ho fatto qualche gara, però ero praticamente l'unica ragazza del mio... sai, della mia categoria, per l'età, sì. Erano tutte molto più giovani e a un certo punto ho detto, vabbè, non mi sembra abbia tanto senso questa cosa, quindi... quindi poi ho smesso. E' un po' rimasta sta cosa addosso, mi sa, perché anche adesso ultimamente ho visto qualche posto. Ragazze, dove siete? Sì! Da sola no, ma in qualche tappa siete state in poche, insomma. Sì, sì, ma in generale ci sono sempre... la presenza femminile è sempre un po' scarsa, però sta crescendo. E quindi Freeride World Tour è il tour mondiale appunto di Freeride, sia chic che snowboard. Invece il Freeride World Qualifier è il circuito per accedere, no, al Freeride World Tour, come se fosse... Boh, non dico una serie B, perché la serie B nel calcio ma ci stanno 10 miliardi di serie sotto, però come... Cioè, la serie di accesso è il Qualifier. Qualifier. E' aperta a tutti. E' aperta a tutti, sì. Sì, sono delle gare di qualifica appunto per accumulare punti. E sono aperte a tutti, partono, come dicevi te, prima accenavi le stelle. Ci sono le gare da una stella, due stelle, tre stelle, fino alle quattro stelle, che sono le più importanti, diciamo. E quelle che tirano anche i più punti. Ah, quindi non è un discorso banalmente accedono ai challenger solo i quattro stelle, ma accedono in base... Cioè, quando arrivi a tot punti, accedono. Quella, diciamo, quella classifica che ho visto, che hanno postato da poco, in cui tu stai alla sesta posizione attualmente, dove c'è il TAT a 10, non è un tanto per... Tu sei sesta tra i quattro stelle, ma tu stai sesta in base ai punti che hai in totale. Esatto. Quindi, chi fa le gare a quattro stelle ha in palio più punti, ma puoi accedere solo se hai fatto ai tot punti. Non lo so, come se c'è morale. Sì, 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 ovviamente. Allora, si parte da le gare una e due stelle, perché spesso, cioè, io ad esempio, la prima gara che ho fatto era una due stelle. Dipende da quante persone si iscrivono, quindi da quanti posti ci sono e da quante persone si iscrivono, e questo varia per ogni gara. Ad esempio, sì, io sono riuscita all'inizio, senza nessun punto, ad iscrivermi ad una gara da due stelle e ad una gara anche da tre stelle. A volte, cioè, non succede sempre, però a volte si riesce. Dipende, appunto, da quanti posti hanno, eccetera, eccetera. La differenza tra una gara, oltre al punteggio, è la difficoltà del tracciato in maglia. Sì, chiaramente le gare da una a due stelle hanno delle venue, delle face, adesso non mi ricordo, non so come dirlo in italiano, però un po' più facili. Poi tre, quattro stelle sono magari un po' più tecniche, più ripide, quindi sì, anche la difficoltà della face varia. Allora, la venues sarebbe come dire, ok, io vado, credo, vado a sciare a Monte Toth, questo è il nome del monte, quella è la venues, giusto? E la face, perché il monte può avere diverse face su cui scendere, no? Dice, ok, arriviamo lì e scendiamo quella face, piuttosto che la face nord, la face est, eccetera. E di solito hanno dei nomi, boh, perlomeno credo Natural Selection, oppure vedo in America, che gli danno dei nomi, eccetera. O non so se anche in Italia si hanno dei nomi alle face. Sì, no, di solito sì, però magari sono, sì, ad esempio l'ultima si chiamava, quella lì in Svizzera, Mongon, però sì, poi c'hanno diversi nomi, insomma. Sì, questa roba, cioè è un mondo il filo, perché è un mondo che finché non c'entri un po' dentro non cominci a scalfire un po' la superficie, non ti rende conto, cioè non ti rendi veramente conto di quanto sia un rabbit hole e ti butti dentro e non ne esci più. Sì, no, decisamente. E anche tutto il sistema dei qualifiers, finché, cioè io adesso, ci sono dentro da qualche anno, vabbè, non solo adesso, ma già, insomma, dopo il primo anno ho iniziato un po' a capire come funzionava il tutto. Però all'inizio, o comunque una persona esterna, cioè è veramente complicato, diciamo, da capire. Sì, sembra più complicato poi di quello che è, diciamo, perché quando ci entri poi capisci come funziona. E, vabbè, ci sono, tra l'altro, appunto ci sono qualifiers sparse in tutto il mondo, però le classifiche sono divise in due regioni, quindi c'è Europa, più Giappone, Nuova Zelanda e Australia, che sono considerate come una regione unica. e poi c'è Nord America, cioè America, Americhe, e quindi Sud America e, sì, poi le prime, diciamo, classificate del Sud America, cioè i primi classificati del Sud America accedono alle gare del Nord America. E adesso nei Challenger, cioè ci sono dei Challenger in questa regione, regione 1, Mac viene chiamata, e poi ci sono i Challenger nella regione 2, quindi America. E alla fine, i primi classificati di ogni regione, cioè c'è un posto per Snowboard Woman, due posti, o forse tre adesso non ricordo, per Ski Woman, e vabbè, Ski Man ci sono più posti, Snowboard Man anche due posti, mi pare. E appunto i primi classificati dopo i Challenger accedono al Freeway World Tour, e stessa cosa succede, sì, c'è anche appunto in America. C'ho capito bene, tu stai nel blocco, in quel cut di otto posti che c'erano, tu stanno nella regione 1, siete otto ragazze. Esatto, siamo otto ragazze che siamo accessi, esatto, che abbiamo l'accesso adesso ai Challenger. E questi Challenger non saranno solo tra voi otto, ma tra anche le otto delle altre tre zone, oppure i Challenger non vogliono solo… Scusa, non mi sono spiegata male, forse, anche lì faranno i Challenger e poi… Ah, ok, c'è un Challenger per ogni zona. Esatto. E lo spot in palio, chi vince vicino a uno per le ragazze, quindi per la prima che arriva, chi vince i Challenger della tua zona, tu e le altre sette ragazze, va a direttamente… Va al Freeway World Tour, sì. Ah, quindi praticamente ci sono tre spot, cioè ogni anno, ogni stagione entra nel circuito chi vince la Challenger di ogni area. Esatto, sì, quindi nel caso delle snowboard della ragazze, c'è uno spot dall'Europa e uno spot dall'America, quindi le prime due andranno al Freeway World Tour 2024-2025 e poi c'è una wildcard che verrà data a una ragazza tra le due regioni e appunto, va bene, nell'altro capitolo 10 ci sono un po' di spot in più perché di solito, sì, c'è più partecipazione. Esatto, sì. Allora, diciamo, questo è come si arriva all'Ulin, al Freeway, diciamo, ok, ma a noi piace anche, diciamo, come il purgatorio, come si parte dalla base, no? Perché secondo me è quella la cosa figa, cioè, allora io conosco, non conosco tantissimo il circuito di quella verità, le poche informazioni che ho sono le chiacchiere che ho scambiato con te quando abbiamo uscito insieme e qualche chiacchiere che ho fatto con Ariana Tricomi qualche anno fa, ma nulla di più, quindi ecco, magari, ecco, provo a fare un po' di chiarezza. E adesso ti racconto, quella che è la mia, l'immagine che mi sono fatto di questo qualifier, di questo circuito, tu mi dici dove sbaglio, oppure quello che è giusto, così ceriamo la prima. Allora, quindi io, che vado in snowboard, a livello che, chi se ne frega, cioè, so solo io a che livello vado, no? Non sono maestro, ma amo il free ride, amo provare ad andare in fresca, mi piace, eccetera. E' che c'è l'anno prossimo, vado a fare qualche gara di una stella, male che va, faccio una figuraccia con gli altri partecipanti e chi se ne sbatte. Però ho l'opportunità di andare in una face, cioè in una zona, di andare a scena in una zona, tra virgolette, controllata. Sì, esatto. Mi vado a montare, è curata, è controllata, c'è gente comunque che mi potrebbe venire a soccorrere, eccetera. E quindi, cioè, non è il modo migliore per approcciare il free ride, al massimo rischia una figura di merda, no? Giusto? Sì, sì, ma al che vada, che poi, vabbè, non la chiamerai neanche figura di merda, cade chiunque. Io non so quante volte in gara sono caduta, sono esplosa e anche quelli più forti alla fine cadono e fanno figure di merda, tra virgolette. La figura di merda, la figura di merda in questo caso era, che ne so, faccio neanche mezzo trick, arrivo dopo dieci minuti, mi stanno ad aspettare, devo partire il tempo dopo. Dobbiamo far partire sicuro dopo, no? Ma sì, sicuramente è un ambiente controllato perché ci sono degli esperti, delle guide che mettono in sicurezza appunto la zona, cioè sì, dove c'è una zona che viene, tra virgolette, recintata, nel senso, viene delimitata, ecco. E spesso anche viene bloccato, cioè non proprio bloccato, perché se uno vuole può andarci, però diciamo che chiudono l'area dei giorni, a volte delle settimane prima della gara, quindi tendenzialmente rimane anche abbastanza... Intatta la nera. Intatta, esatto. Non puoi aggareggiare sul tritato, capito? A volte, a volte, perché anzi spesso capita anche che si scende sul tritato, come dici te. Magari solo una parte, sai, magari la parte più alta, la neve è ancora buona, poi sotto sì, è tutto tracciato e più c'è neve dura. Però sì, sicuramente è un, secondo me è un, un modo, cioè ti direi, magari devi già avere un, cioè aver fatto un'introduzione al freeride e anche sapere, cioè aver fatto magari un corso su come utilizzare Arva, Pala e Sonda per, sì, per il soccorso, in caso di valanghe, eccetera. E se hai già un po' di esperienza di freeride, ben venga, però sicuramente poi è anche un buon modo per entrare il più, diciamo, in questo mondo. Chiaro, chiaro, no, non voglio invogliare nessuno a buttarsi. Però, però, cioè, il punto è, non ci sono barriere, cioè non è che è richiesto essere maestri, non è richiesto un'esperienza progressa, contest progressi, vai lì. No, assolutamente. Vai lì, paghi l'iscrizione, ti danno di solito lo skip us per la giornata e niente, vai e ti diverti, provi a divertirti. Questo è un punto interessante, adesso ci torno perché era una cosa che volevo chiederti, ma prima volevo dirti, giusto per soddisfare i più golosi, che magari a quest'ora immagino qualcuno che si è accesa qualche lampadina, cavolo, allora ci posso provare. Speriamo, speriamo, soprattutto ragazze, perché appunto mancano. No, le location sono più o meno le stesse o cambiano da stagione o da stagione? Sono più o meno le stesse, sì. E purtroppo, no, purtroppo in Italia non c'è, non ci sono gare o meglio, ce n'era una organizzata, la TUI, quest'anno, che però è stata cancellata perché le condizioni non permettevano di svolgere la gara. Se no, altrimenti, cioè qua in zona, dico, Europa, ce ne sono tantissime, in Svizzera, che sono sempre, sì, gli stessi, gli stessi posti, bene o male. Ogni tanto c'è qualche gara nuova, però sì, Svizzera tanto, in Francia, in Austria ce ne sono un po', soprattutto una o due stelle. Sì, sì, soprattutto una o due stelle, oppure quattro stelle. C'è poco di tre. Infatti io, cioè, seppur vivendo in Isburg, alla fine mi sono spostata tantissimo e quasi sempre in Svizzera, perché la maggior parte delle gare che interessavano a me erano in Svizzera. Qualche nome di qualche località, Austria principalmente, c'è tipo Austria, cioè non c'è la World Tour, nel senso, so che Tiberbrunner si nomina, credo, e poi lì c'è la World Tour, ma c'è anche qualifier. C'è anche qualifier, c'è, dovrei saperlo pronunciare, ma, Kitsenhorn, Kitsenhorn, vicino lì a, esatto, dove siamo trovati noi, sì, esatto. Solo che, ad esempio, lì lo fanno, però quest'anno è stato cancellato e, anzi, è stato cancellato il qualifier lì, perché faranno una tappa, una delle quattro tappe del Challenger, quindi una delle quattro finali sarà lì, quest'anno. Ah, quindi tornerai lì in zona... Quindi tornerò, sì, esatto. Non c'eri andata in quel periodo, su Ghiacioni, non c'eri, stavo sempre a Salbach, giusto? Sì, non sono andata, e tra l'altro non ho mai fatto la gara, non ho mai fatto i qualifiers lì, perché l'anno scorso era stata cancellata, perché non c'erano le condizioni adatte, non c'era abbastanza neve. Un altro posto è a Kappel, in Austria, a un'ora, più o meno da Innsbruck, verso, non so se conosci Ischgl, o... Ah, ok, ecco, verso Ischgl, prima di Ischgl, e lì fanno... quest'anno hanno fatto una a due stelle, di solito erano a tre stelle, sì, ogni tanto cambiano, passano da due a tre, da tre a due... Figo, comunque, beh, non sono nelle Alpi, ma, cioè, anche arrivare al Kitsch, no, 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 non è tantissimo, cioè, c'è un paio d'ore, tre ore... Sì, sì... Noi c'erano tutti gli anni, vabbè, è figo. E la domanda, invece, che avevo un attimo messo in pausa prima, quando ho parlato di ski pass, tu dici, giustamente, ci passano lo ski pass, ma, cioè, ricomincio il discorso di ricostruzione di come funziona una gara, che, so, per senso di dire, eh, non è niente, sto dicendo una cavolata, cioè, voi raggiungete il punto di partenza in pelli barra piedi? Possibile, sì? Sì, sì, con le pelli, raramente, perché... Perché se vai con le pelli devi anche scendere in split, giusto? Esatto, esatto, e di solito funziona così, vabbè, sono sempre, le gare sono sempre in aree sciistiche, dove ci sono gli impianti, e, quindi, si sale con gli impianti e poi, semplicemente, l'ultimo, l'ultimo pezzo per accedere alla cima, si fa a piedi. Quindi, con la tavola gli sci sulle spalle, diciamo, ma non sono mai camminate troppo lunghe, magari, dai venti minuti a un'ora massimo. Ok. Quindi, sì. Giusto per capire se rischiamo di bruciarmi in salita. Ah, ok. Faccio un'ora, mi brucio già. Beh, infatti, anche per quello, un po' di allenamento fa comodo, perché a volte sono impegnative. Cioè, la maggior parte delle volte, no? E in mezz'oretta che la cavi, poi puoi prenderti il tuo tempo, con calma, non devi salire, lo sai, a fuoco. Cioè, puoi andare con calma, basta che inizi... Devi solo scendere a fuoco. Esatto, devi scendere a fuoco, ma puoi salire con calma. E si va con, vabbè, chiaramente avrei, ti danno il bib, ma arma, pala e sonda, giusto, tutto l'attrezzatura. Esatto, sì, è obbligatorio avere lo zaino, non serve l'airbag. È obbligatorio l'airbag per i challenger. Infatti, adesso devo procurarmi un airbag, perché non ce l'ho. Però, altrimenti, per i quali spostano lo zaino qualsiasi, con arma, pala e sonda, sì, quello è obbligatorio. E il paraschiena e il casco sono obbligatori. Paraschiena esterno allo zaino. Sì, esatto, perché c'è qualche zaino che ha il paraschiena e il mio orto box ce l'ha, però io lo porto sempre anche. Quindi, paraschiena e casco, obbligatori. E poi loro ti danno anche il... Cioè, il recco... Hai presente? Ma il recco non è un nome per l'arba, no? Io raccomando fosse l'arba. No, è un... Siamo un dispositivo di geolocalizzazione. Sì, sì, esatto, che spesso è anche inserito in alcune giacche o nei pantaloni da sci, snowboard. E però sì, c'è anche... te lo danno anche separatamente da mettere sul casco. E che fa quello? Quello è per... Sì, esatto. Sempre per emergenza, tipo... Sì, in caso di emergenza. Ah, figo, non lo so. Sì. Non lo so, io ero convinto che il recco fosse un brand di arba, perché lo confondevo proprio. Bene, quindi andiamo su con il nostro passo, andiamo sopra, ci facciamo la nostra scarpinata e siamo pronti a scendere. Allora... Facciamo un passo indietro, sai, anzi. Sì, sì. Perché, ok, si arriva, si sale con gli impianti, la prima cosa è il face check. Quindi c'è un'area apposta, diciamo, dove si riesce a vedere bene la face. Quindi con il binocolo, sì, di solito con il binocolo, si può fare anche senza, però ovviamente è più comodo. Si guarda un po', si guarda la face, si cerca di... Spesso la maggior parte delle persone hanno già la linea che vorranno poi fare in mente da prima, ok? Però io, ad esempio, sono una di quelle che sceglie la linea due secondi prima di droppare nel drop-in e spesso anche cambio idea finché sto scendendo. Quindi sì, la mattina si arriva lì, face check, si sceglie la linea che si vuole fare e poi si sale a piedi e si aspetta il proprio giorno. Quindi, vabbè, in base al numero, alla bib, quindi in base alla tua casacca e al numero che ti hanno dato, casacca pettorale, perché... Sì, in base al numero puoi magari, cioè, devi salire subito se sei all'inizio oppure puoi aspettare, aspettare magari anche guardare altre persone che scendono e poi iniziare la salita e niente, poi si arriva sopra e poi si scende. Ed è one shot, quindi ovviamente non ci sono prove prima. Spesso è un run, ecco, questa era la domanda. No, è una run. Una run, sì. Quindi è quella anche un po' la cosa difficile, perché spesso quando si guardano le run da fuori, magari in video, sembra facile, no? Io spesso guardavo anche video, anche di altre ragazze, ti dicevo, madonna, che cazzata, cioè, è facile, tra virgolette, commentare da fuori o anche dire, ma poteva far così, ma perché non ha fatto questo, perché non ha fatto quello. La cosa difficile, appunto, è che spesso scendi in una montagna che magari non hai mai visto fino al giorno prima o fino al giorno stesso. E quindi, sì, devi guardare bene i punti, magari tenere dei punti di riferimento per cercare di seguire, appunto, di scendere lungo la linea che avevi in mente. È sempre diverso quando ci si trova nel bel mezzo della discesa. Cioè, un conto è guardare da sotto, anche spesso, non so, i salti sembrano molto più piccoli, poi ci arrivi sopra e dici, ah, ok, non era così piccolo. Magari ci vado attorno e ne faccio l'altro. Cioè, infatti, non è solo un tracciato o una discesa che non hai mai visto fino al giorno prima. Anche il giorno prima, magari, o qualche minuto prima, l'hai visto, ma da un binocolo e poi è al contrario, l'hai vista da sotto, l'hai vista da sopra. Esatto, esatto. Quindi è quella la difficoltà, diciamo, del freeride. Senti, allora, poi entriamo nel tecnico di come si vengono le gare, cosa contano nei punteggi, eccetera. Però, il gusto tuo personale, tipo, se una, vabbè, hai detto che, già hai detto che improvvisi o scegli la linea appena prima del drop-in, ma il gusto personale preferisci essere quella che scende per prima o preferisci vedere qualche run e capire la linea? Dipende, dipende. Dipende dalle condizioni, tanto, perché, ad esempio, l'ultima gare che abbiamo fatto, c'erano delle condizioni da paura. Cioè, veramente, c'è anche tutti i locals dicevano, wow, non abbiamo, non so da quanti anni non vediamo il mongon in queste condizioni, con questa neve. Era Nanda, scritto Nanda, si pronuncia Nanda, una cosa del genere, non sono sicura neanch'io. Eh sì, quindi sì, era la quattro stelle a Nanda, su questa face che si chiama Mongon, e che è una delle, è stupenda, cioè, eravamo tutti super excited all'idea di scendere lì e soprattutto in quelle condizioni, perché c'era veramente una bella neve ed è stato, sì, è stata una delle gare più belle, anche, cioè, proprio per le condizioni, perché non sempre, si pensa anche questo, tanto che nel freeride si scende, cioè, sai, nel freeride si pensa, ok, vado, cioè, è powder, no? Invece, spesso, è l'opposto della powder, quindi è neve molto, magari, battuta, cioè, non battuta, però neve compatta, compatta, trasformata, firma, firma. Sì, ci sono, cioè, puoi trovare tutte le condizioni possibili, anche, a volte, fa veramente ridere, cioè, ok, un'altra cosa che non ti ho detto, la sera prima della gara c'è il riders meeting, ok, quindi ci si trova tutti lì e viene un po', c'è un'introduzione che viene fatta tutte le volte un po' la stessa e poi ci dicono, ok, le condizioni della neve sono queste, domani sarà sole, freddo, non freddo e quindi ci spiegano un po', sì, anche, com'è la neve e spesso c'è la foto della face con, non so, quattro zone di colore diverso, ok, dove ci dicono, ok, la zona blu è powder, neve bella. Poi sotto, qui a sinistra, neve trasformata, un po' di crosta, invece, più sotto, lì, verso la fine, è dura, compatta, tracciata, state attenti, oppure ci sono dei, non so, magari una vecchia valanga, quindi tu puoi trovarti nella stessa discesa, ovviamente, tantissime condizioni diverse, cosa che non è stata all'ultima gara, perché lì le condizioni erano le stesse dalla cima, cioè dall'inizio fino alla fine e quindi è stato veramente, è stato veramente figo scenderli. Powder, powder turns, con la neve, sì, no, bello, bello. Senti, e come si vince una gara? Cioè, contano il tempo, contano i trick, contano entrambi, penso, o cambia da gara a gara, è sempre lo stesso? Ah no, c'è qualcosa che ho letto da qualche parte che, mi sa che l'avevi scritto tu, o proprio la località, che vinceva chiarevamo prima, non contava i trick, una cosa del genere, contava solo il tempo. Sì, cioè, ci sono diverse tipologie di gara, la maggior parte sono, adesso ti spiego, appunto, ci sono vari criteri che i giudici tengono in considerazione per il punteggio finale, però tendenzialmente le gare vengono valutate in base al controllo, alla fluidità, air and style, ci sono altri due. Controllo, fluidità, la linea, bravo, una delle cose più importanti. Il tempo non incide, di solito no. C'è solo una gara che viene, sì, che viene valutata in base al tempo, c'è solo in base al tempo, quindi è una, non so neanche come chiamarla, è una corsa. Quindi chi arriva giù più veloce da, sì, quindi chi scende più veloce. E la fanno qua in Austria, è Pizztal Wildface, si chiama. Ah, esatto, la Wildface, una delle ultime gara. Wildface, esatto, è una due stelle e quella viene, sì, valutata solo a tempo, insomma, quindi devi andare giù il più velocemente possibile, non conta nient'altro, cioè tu puoi cadere, puoi fare in mezzo nella run, può succedere qualsiasi cosa, però se arrivi giù col tempo migliore vinci. Cosa che invece non succede nel resto delle altre gare, perché di solito appunto ci sono cinque criteri, sono linea, fluidità, air and style, tecnica e controllo. Quindi... Ma che cambia tra controllo tipo e tecnica? Il controllo è quando stai scendendo, devi dare l'idea che sei in controllo tutto il tempo, ok, della tavola e sei in controllo rispetto alla neve, quindi che non perdi magari, sì, non lo so, che non scivoli sui talloni o che non perdi il controllo, diciamo, della tavola. Invece la tecnica è il più, sì, non so, ad esempio scendere facendo delle curve vere e proprie piuttosto che scendere in slide sui talloni o sulle pulite. Certo, frenando. Frenando, esatto, quindi sì, è il modo in cui scendi lungo la montagna, insomma. Io, quindi, non è proprio così semplice, però, vabbè, è bello buttarsi, però non vincerei, io non vincerei. Va bene, però è anche divertente provare, magari, e poi, sì, anche solo per appunto misurarti, poi se vuoi ti dico anche, sì, un po' il punteggio, come funziona. Ma invece come funziona appunto il punteggio? Devo ancora capirlo bene anch'io, eh, perché questa è una delle cose più, cioè, spesso, dopo la run, quando vai dai giudici a chiedere il tuo punteggio e cosa è sbagliato, cosa devi far meglio, eccetera, a volte ti, non lo so, ci rimani quasi male perché ti danno i quei punteggi che dici, ah, ok, boh, mi aspettavo un po' di più. Diciamo che si parte, i giudici partono da 50 punti, ok, quindi ogni rider alla partenza ha 50 punti. In base a quello che fai, quindi se, che ne so, fai un salto oppure se cadi o se hai un piccolo, un errore, una perdita di controllo, eccetera, ti vengono tolti o aggiunti punti, ok, quindi la base sono 50 punti, poi puoi guadagnare o perdere punti in base a quello che fai durante la tua run. E questo è, poi, sì, poi ci sono tre giudici di solito, quindi ogni giudice poi dà il suo punteggio e poi viene fatta la media tra i punteggi dei vari giudici e quello sarà il punteggio finale, insomma, di ogni rider. E basta, così, questo è... E i punti della gara vengono dati in base alla classifica, cioè il punteggio tipo il primo classificato prende x punti per il primo, per il one star, x punti per le stelle, eccetera, eccetera. Esatto, esatto, poi... Esatto, poi esatto, per la classifica generale, poi anche quello è un po' complicato. Vabbè, magari non vado così nei dettagli, perché ci sono, diciamo, due classifiche. C'è la classifica... C'è una classifica che viene chiamata seeding list, praticamente alla fine di ogni anno, vado un po', torno indietro, alla fine di ogni anno nella classifica, sì, nella classifica contano i tre punteggi migliori, ok? Quindi tu puoi andare a tutte le gare che vuoi, loro ottengono solo i tre punteggi migliori che hai fatto. Quindi può essere, non so, un secondo posto a una due stelle, un terzo posto a una tre stelle, qualsiasi cosa. Ad esempio, su una gara da due stelle, un primo posto vale 600 punti, ok? Quindi, non so, invece in una gara da tre stelle, un primo posto vale 1.100. E quindi poi, sì, dipende, insomma, poi da quante stelle, da... Il fatto che tu sia in sesta posizione adesso, perché quel sesta posizione, cioè le tre migliori gare che hai fatto in questa stagione, ti hanno portato in quel punteggio lì? Sì, questa, esatto, questa è la classifica, cioè il mio sesto posto lì, e adesso è la classifica finale, ok, di qualifica, tra virgolette, cioè la classifica finale di quest'anno. Quindi hanno preso i tre migliori risultati e io con quei punti mi sono, cioè sono arrivata a sesta e sono riuscita ad entrare nel cut per i challenge. Sì, tra l'altro è stata una cosa mega inaspettata, perché io fino a due settimane prima ero, penso, 25esima in classifica, qualcosa del genere. E lì a Nonda ho fatto la gara da tre stelle, ho vinto la tre stelle e non ero neanche, cioè, ecco, anche questo, magari non te l'avevo detto, però per accedere, non so, spesso alle quattro stelle ci sono pochi posti disponibili e quindi devi avere già parecchi punti. Io non avevo l'accesso alla quattro stelle lì a Nonda, ero solo dentro alle tre stelle, però vincendo la tre stelle mi hanno dato una wildcard per la quattro stelle e poi ho vinto la quattro stelle, quindi è stato top proprio. E sì, super inaspettato, perché non avevo mai, era la mia prima vittoria in una tre stelle e la mia prima vittoria in una quattro stelle, quindi è stata un'emozione veramente mega. E sì, e anche avendo vinto una quattro stelle non ero sicura che mi sarei qualificata per i challenger, perché c'erano inizialmente solo le prime cinque ragazze, almeno così sembrava che le prime cinque si qualificavano, invece poi, non so, erano otto alla fine, quindi non sono riuscita ad entrare. Tutta una serie di eventi, è un effetto pala di neve generato dal fatto che sei venuta a sciare con me a Salpac un paio di giorni a inizio stagione, esatto, è da lì, è l'ufficiale che porto fortuna, è l'ufficiale, atleti all'ascolto, se forse ne erano svolta alla carriera, venite a sciare con me un paio di giorni, giro con l'Austria. Salva, che è il posto fortunato. Esatto, esatto. Io te l'ho scritto sulle storie, complimenti, complimenti, congratulazioni, non so che sei, e quando cominciano i Challenger? Ecco, come funzionano i Challenger? Quando partiranno? Allora, la prima gara tra l'altro è in Italia, sul Monte Rosa, quindi sarà dal 14 al 17, quindi tra poco, la settimana prossima, martedì, devo partire già. C'è tipo sei tonnellate di neve? Sì, esatto, sì, ho visto foto, video di strade, gallerie bloccate dalla neve, paesi isolati. Sì, esatto, galleria tappata. Eh, esatto, sì, 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 assurdo. Però sì, la prima è appunto lì sul Monte Rosa, 14 al 17, che poi ovviamente la gara si svolge in un giorno, quindi dal 14 al 17 c'è questa finestra temporale, di sì, quindi se, non so, il primo giorno il tempo non è buono, poi la spostano. Poi c'è, non so, non mi ricordo se Obertauern in Austria o Kitztenhorn, una delle due, e poi c'è una in Francia, a Voria, ad Avoria, e poi sì, è l'ultima in Austria. E sono praticamente una settimana dopo l'altra, quindi c'è ogni settimana, cioè da adesso, da metà marzo fino a metà aprile, ogni settimana c'è una gara, e sono quattro, e alla fine prendono i tre migliori risultati, quindi viene scartato il risultato peggiore delle quattro, e poi, insomma, con i tre migliori risultati viene fatta la classifica finale. E non c'è una pagina Instagram dei Challenger, cioè, le comunicazioni la prendono dalla pagina dei Qualifier. Qualifier, esatto, Qualifier e World Tour, ma soprattutto Qualifier. Senti, innanzitutto in bocca al lupo, cioè partono questi Challenger, a parte che chiaramente è il sogno della vita, ovvio, magari, cioè, se sei lì è chiaro che è il tuo sogno, però non è facile poi conciliare vita, lavoro e questo, perché, cioè, che fai, ti prendi una settimana, un mese di ferie, che fai? Eh, sì, bravo. Infatti... Cioè, perché non sei ancora un professionista, a parte che nello snowboard, non hai che invidi di snowboard, cioè, se sei mai professionista, poi, specialmente a questi livelli... È abbastanza dura adesso. Sì. Sì, no, infatti quella è una parte abbastanza, cioè, sinceramente, difficile. Ed è anche uno dei motivi per cui non ci sono così tante persone e così tante ragazze, secondo me, che partecipano. Perché comunque, intanto, a livello di tempo, cioè, se vuoi veramente, cioè, se vuoi veramente provare a fare dei risultati, cioè, devi andare in snowboard il più possibile, cioè, per conto tuo, e poi devi andare alle gare, e quindi andare alle gare prende un sacco di tempo. Spesso le gare vengono spostate, cancellate, cioè, quindi magari tu parti... Anche spese. Anche spese, perché loro ti danno lo si passano. Ok, che tu paghi l'iscrizione, ma dove dormi? Come ci arrivi? Esatto, esatto, esatto. Quindi è molto dispendioso, cioè, abbastanza, a livello economico, non è così scontato, insomma. Non tutti riescono a farlo, magari. E poi devi essere flessibile, quindi, appunto, devi avere o un lavoro che ti permette di essere flessibile, o non lavorare, se puoi, cioè, almeno per, non so, i mesi dei challenger. Infatti, quello era un po' il mio obiettivo per l'anno prossimo. ho detto, ok, adesso, da maggio fino a novembre, dicembre, che ne so, lavoro il più possibile e poi mi prendo quei tre mesi in cui non devo pensare ad altro. Vado in snowboard, vado a fare le mie gare e sono tranquilla, non ho altri pensieri. Perché, altrimenti, è veramente difficile. C'era anche un'altra, c'è un'altra ragazza italiana, snowboard, che, tra l'altro, è forte. L'anno scorso aveva fatto dei... aveva fatto dei buoni risultati. però quest'anno... No, Jenny ha iniziato quest'anno, anche lei è gasata. Sì, 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 sì. E ha vinto anche... ha fatto dei bei risultati già all'inizio. Ci ricordavo che l'anno scorso... Cioè, l'anno scorso faceva freestyle, comunque faceva contesti. Sì, sì, esatto, esatto. Sì, no, si è buttata quest'anno nel freeride, è super gasata. Quindi, bene, almeno un po' di ragazze, anche italiane, perché, appunto, in italiane siamo veramente poche. E c'era quest'altra ragazza, Tess, piemontese, e lei, quest'anno, si è proprio demoralizzata, perché non ha tanto tempo per andare in snowboard e comunque andare a legare, cioè, sì, appunto, come abbiamo detto, tempo, soldi, e magari, sai, cioè, per una cazzata, non so, cadi, ti bruci la run. Magari cadi anche alla fine della run. Una volta mi è successo l'anno scorso e se avevo fatto una run avrei potuto vincere da quello che mi hanno detto e sono caduta alla fine, prima della judging line. E va bene, e lì, ovviamente, basta, cioè, butti via, butti via tutta la run. E, sì, sì, sai, quando succedono queste cose, capita che ti butti un po' giù e dici, vabbè, boh, non ha senso, ti continuo. Però è un peccato, insomma, perché è veramente un bel, un bel ambiente, un bello sport, boh, tutte le esperienze che sto vivendo, grazie a, grazie al Freeride, sì, sono cose che mi porteranno dietro, insomma, per tutta la vita. Quindi, ah, chiaro, ti capisco, ti capisco, non che abbia vissuto le stesse cose che vivi tu, però, medesimo, no? Perché comunque, io, ma anche tutti quelli che penso siano, cioè, penso tutti quelli che sono all'ascolto di, di sto podcast, siano in fissa come me, come te, per lo Snowboard, quindi anche un po' per la fresca, per la fresca, per il Freeride, credo proprio che sì, e quindi, ecco, e comunque non penso, cioè, tornando al discorso, sostentamento, non penso che ci siano sponsor, sì, ok, magari ti danno, cioè, so che tu sei del team Slash, se ti ricordo male, esatto, stanno, sto in giro con Slash, con Slash, e, però, ecco, magari danno attrezzatura, magari ti coprono uno spese, esatto, esatto, sì, sì, anche, cioè, se non sei già pro, diciamo, è difficile trovare sponsor, che ti, cioè, dove hai un contratto, dove ti pagano anche, quindi, magari, la maggior parte degli sponsor, sì, è materiale, però, a livello economico, poi, devi sostentarti, da sola, cioè, ed è quello che sto facendo io, secondo me, è l'unica cosa, cioè, almeno, quello che sto facendo io, al momento, e che ho deciso di fare da quest'anno, è stato di dedicarmi, tra virgolette, completamente a questa cosa, perché, mi sono resa conto, che altrimenti, non ce la fai, cioè, quindi ho deciso, ok, io lavoro, vado in snowboard, e poi vado a far le gare, e i miei soldi, li spendo lì, e quindi, sì, devi, devi anche, fare dei sacrifici, e tagliare, e tagliare un po' alcune cose, sì, perché, perché altrimenti è difficile, però, ma come tutto nella vita, cioè, tanto tu non puoi, esatto, non puoi irradiare energia, e focus, come fa il sole, andare laser su delle cose, perché altrimenti, non riesce, un obiettivo, un focus, e perseguire, perseguirlo, tanto invece, a livello di preparazione fisica, come ci si prepara, per il freeride, cioè, come ti prepari, allenamenti, workout, oppure, scia, scia, allora, dipende, dipende, di solito sì, di solito, si va il più possibile, in snowboard, e quello, e quello sicuramente, cioè, è la cosa più importante, però, chiaramente, io, appunto, quest'anno, che ho deciso di prendere, la cosa un po' più seriamente, mi sono detta, ok, mi sono, mi sono resa conto, dall'anno scorso, che, cioè, per atterrare da un salto, devo, devo avere le gambe, per riuscire a, sì, a stompare un cliff, cioè, ad atterrare da un cliff, senza, senza cadere, o, e anche solo arrivare alla fine, di una run, se, senza problemi, non, hai bisogno, devi, devi allenarti, sicuramente, infatti, cioè, io da quest'anno, ho iniziato, prima della, stagione, la prima volta, in vita mia, che mi alleno, per qualcosa, però ho detto, ok, dai, lo faccio, ci provo, almeno, dal tutto, cioè, il tutto per tutto, e, e, sì, mi sono fatta seguire, c'è una ragazza, che conosco, che mi ha un po', seguito nell'allenamento, fisioterapista, quindi, andavo da lei, fisioterapia più allenamento, diciamo, che era principalmente allenamento, alla fine, quindi, ma solo pre, solo pre stagione, o anche durante la stagione? Anche durante la stagione, ma molto meno, adesso penso, potrei fare di più, ma nell'ultimo mese, non mi sono mai allenata, anche per via di tempo, sì, per via del tempo, però, però sicuramente mantenere poi, durante la stagione, cioè, ci sta, magari, una volta a settimana, anche, che non so, io, appunto, sono la persona peggiore, in questo, nel senso che, ti dico, io, io veramente, filo a quest'anno, io non ero mai entrata in una palestra, in vita mia, cioè, io ho sempre fatto, tantissimi tipi di sport, ma non sono mai voluta entrare, in una palestra, quest'anno ho detto, ok, dai Giulia, sforzati un po', è per, è per te, è per andare meglio in snowboard, infatti, stanno pagando, stanno ripagando, sì, no dai, sono contenta, anzi, non è così male in realtà, e poi, quando vedi i risultati, quando vedi che riesci a, a scendere meglio, poi a snowboardare meglio, insomma, ti, la motivazione, cioè, c'è anche più motivazione per, per continuare, quindi sì, è, ma, secondo me, sicuramente è un allenatore, allenamento generale, ok, non deve essere per forza niente di specifico, però serve, e, poi sì, ho fatto anche qualche, magari di esercizio specifico, però, in generale, un po' di allenamento, tipo, prestagione, anche solo prestagione, super, fa la differenza. Guardi, invece, è gestione, diciamo, gestione dello stress, cioè, c'è lo stress, l'ansia pregare, navoli, sì, un sacco, anzi, anzi, la cosa, cioè, la componente mentale, forse, è la parte più difficile da gestire, perché, perché a volte, sì, a volte non, cioè, non so, capita che, sei tranquilla, fino a che, ok, quello è anche normale, no, essere un po' tesa, prima di partire, anzi, è una tensione, positiva, che ti permette anche di, poi, insomma, di essere attenta, più, esatto, un eustre, esatto, tecnicamente, sì, però, sì, a livello mentale, cioè, io, soprattutto, l'anno scorso, diciamo, la soffrivo un po' di più, e anche all'inizio di questa stagione, e, poi, non so, qualcosa, forse, è scattato, e, mi sono detto, ok, tranquilla, non, cioè, ovviamente, tutti vogliono vincere, diciamo, no, però, non è la cosa più importante, chiaramente, sì, riuscire a, a fare, una discesa, cioè, una discesa di cui, poi, sei, gasato, e sei contento, cioè, entrare nel mindset di, ok, alla fine è solo snowboard, no, quindi, io vado su, e mi faccio la mia discesa, sì, cerco, cerco di divertirmi, di fare quello che faccio, sempre, senza pensare più di tanto a risultato, tutto il resto, è una cosa che a me condizionava molto, era quello di vedere, cioè, sapere e vedere, chi erano le mie avversarie, no, quindi, se io sapevo, cavoli, questa gara, sì, c'è quella ragazza, quell'altra ragazza, sono forti, mi metteva un po' di soggezione, e quindi poi, non so, mi influenzava negativamente questa cosa, invece, le ultime gare che ho fatto, cioè, proprio non ci ho pensato, vabbè, non, cioè, ovviamente sapevo chi c'era, però, non so, non si vede che non ho messo il focus su quello, mi concentravo solamente su me stessa, su quello che volevo, quello che volevo fare, che è una linea che magari mi ispirava, dei salti che mi ispiravano, e pensavo solo a snowboardare, e basta, e questa cosa, forse ha dato i suoi frutti, non lo so, però lo vedremo nelle prossime, però, sì, non parliamo, non parliamo, esatto, però sicuramente, a livello mentale, cioè, è difficile, sì, a volte, gestire la parte mentale, però, un po' alla volta mi sembra, che ci sto, ci sto capendo, un po' lì, ci sto riuscendo a, non so, ad essere più tranquilla, faccio quello che faccio per me, alla fine, e cerco di divertirmi, di fare una run, di cui poi sono contenta, cioè, che arrivo alla fine, wow, che figo, bello, mi sono divertito. Senti, due domande, cioè, due cose mi sono venute in mente adesso, mentre parlavi, al di là dello stress pre-gara, ma quando stai lì, cioè, dico, che fai, canticchi, oppure pensi, non cadere, non cadere, non cadere, oppure, quando stai sbordando, dici io, ah, però non sei in Iran, certo, si dici in Iran, comunque, dopo il drop-in, dipende, dipende, a volte, a volte sì, mi parlo, parlo a me stesso, ok, non cadere, non cadere, non cadere, oppure, cioè, non so, parto, ok, adesso, tranquilla, concentrata, non, che ne so, non, perché, magari all'inizio, si tende a partire, a fuoco, e spesso, cioè, capita magari, che, si, cadi già all'inizio, e dici, cavoli, non è detto, che butti via la run, però, però, insomma, dipende, dipende da che caduta fai, quindi, partire con calma, ok, faccio le mie, le mie curve, e provo, cioè, magari mi dico, ok, dov'è il primo salto, che volevi fare, eh, poi vado su quello, ok, atterrata, ok, perfetto, avanti così, non cadere, sto in piedi, e quindi sì, un po' di, c'è questa, questo dialogo, come se, esatto, per stare da un po' nel flow, canticchiare, no, non penso, di averlo mai, fatto durante la run, però, a volte sì, magari mi parlo, c'è anche chi si ripete, c'è chi ha la run, esattamente, stampata in testa, e si, si ripete, ok, faccio questo salto, poi curva a destra, curva a sinistra, poi tengo la sinistra, vado a fare l'altro salto, tutto così, quindi c'è, anche chi si ripete, diciamo, la run, finché scende, è molto personale, alla fine, però, sì, ci sta, ci sta, due, ricordi Michael, l'altro ragazzo, che usciava con noi, cioè, lui è così, lui, cioè, fa un po' di pista, oggi, torna l'anno prossimo, sa che dietro quell'albero, c'è quello, poi lo rifà, c'è, c'è, in mente, dopo, è anche, indore, non so, genetica, pure, più disposizione, è chiaro, lui c'era, naturalmente, tutto ricacciato. Esatto, cioè, ognuno poi ha il suo, il suo metodo, diciamo, io devo ancora un po' trovare, il mio, sto esplorando, però ho visto che improvvisare mi riesce abbastanza bene, quindi, magari continuo. È quello. Continuo su. invece il trick più bello che hai stampato in qualche run? Allora, non ho ancora provato trick, cioè, durante, durante le gare, gli ho provati, cioè, ad esempio, l'ultima gara, siamo poi risaliti a piedi, per fare un'altra, per scendere di nuovo, perché era talmente bella la neve, che ne valeva la pena, e poi lì, appunto, ho provato, ho fatto la linea che avevo in mente all'inizio, che poi, finché scendevo, ho cambiato, e poi ho provato un 360 da, da un cliff, niente di enorme, però, no, giusto per, sì, così per me, eh, però in gara non ho ancora provato trick, perché spesso, appunto, o le condizioni non lo permettono, o, cioè, ad esempio, tante volte un trick, se non lo fai fatto bene, con un bel airtime, non, non, non ti porta neanche tanti punti, quindi, spesso ha più senso, cioè, fare un bel salto, magari, andare più grossi su un salto, con un, con, che ne so, con un grab, però fare un salto, più pulito, atterrare bene, che fare magari un 360, così, un po' buttato lì, rischiare, più rischiare, esatto, poi, c'è, il parametro è air and style, quindi anche vai straight, però vai, vai in secondaria, conta, insomma. Sì, sì, quindi sì, trick non ne ho ancora fatti, mi piacerebbe, vorrei fare un 360, da qualche parte, però, non l'ho ancora fatto, vediamo, magari nelle prossime, se, poi sai, anche lì, cioè, è sempre difficile, deciderlo già prima, ma, infatti, anche tante persone, magari pensano, ok, su questo salto, o lo prendo dritto, o faccio un 3, che ne so, o un backflip, però poi, spesso, quando, cioè, lo puoi, lo decidi quando arrivi lì, quando arrivi sul salto, vedi, ok, com'è il take off, dici, ah no, forse, magari è diverso da come ti aspettavi, che ne so, volevi fare un backflip, invece non funziona, dici, vabbè, faccio un 3, o faccio, faccio un air dritto, però dai, un 360 ci starebbe, anche un po' per spingere, però c'è qualche ragazza che l'ha provato in gara, però sì, anche un po' per spingere, appunto, a livello di snowboard femminile, far crescere un po', far crescere un po' il livello, che comunque sta già crescendo, ci sono sempre più ragazze che, che fanno freeride, però sì, tendenzialmente non è, il livello non è altissimo, nella ragazza, nello snowboard, quindi c'è ancora una, c'è ancora possibilità di, di miglioramento, di crescere, di miglioramento, è figo, perché sento te, e ripenso, cioè proprio, dici, dici esattamente le stesse cose, cioè è assurdo come dici, le stesse cose che senti qua, che ne so, che senti, in England, alla fine del, del Big Air, degli X Games, non lo so, che diceva il stesso, ma sono contenta di stare qui con le ragazze, stiamo spingendo il livello in alto, cioè, a qualunque, a qualunque, cioè tanto il snowboard è così, penso tutti gli sport, comunque è stratificato, no, a qualunque livello, cerchiamo di spingere di più, di fare di più, è vero, sì, è vero, veramente, è vero, e niente, e allora, io, questo era quello che, me lo volevo chiederti, volevamo fare, ecco, big dive, dentro al qualifier, e magari, ecco, invogliare qualcuno a partecipare l'anno prossimo, yes, vediamo, io, questa era una domanda, insomma, che volevo farti, volevo anche trovare qualche curiosità, perché, come dicevo, qualcosa, me l'ero costruito un po' in mente, ma non avevo mai avuto, modo di confrontarmi con qualcuno, per avere la certezza che fosse tutto vero, e fosse così come me lo immaginavo, e, senti, ti va di dirci quali sono i sponsor che ti, qual è il tuo setup, il sponsor, già abbiamo detto che giri in Slash, sì, sì, ma che setup giri, per esempio? Allora, sì, al momento Slash è il mio, il mio unico sponsor, quindi, prende l'ascolto, andate a prendermi Giulia, e quindi, vabbè, io ho, il mio setup per, sì, per freeride, per le gare, è la Slash Vertical, è in 151, e c'ho, vabbè, sto ancora sperimentando anche su questo, c'ho, degli attacchi, attacchi flux, e sui gradi, al momento, ho, più 15, meno 9, o meno 12, se non lo ricordo, perché io ho cambiato talmente tante volte, per cercare di trovare un po', quello che, insomma, quello che preferisco, e quindi non ho un, uno stance super direzionale, diciamo, è ancora abbastanza, sì, ma abbastanza, a papera, come si dice, un direzionale, un direzionale, chiaro, come sarebbe un direzionale, già l'interdito per direzionale, tipo, proprio zero, direzionale, no, però magari, non so, più 18, o più 21 davanti, meno 3, dietro, o meno, ah, molto aperto, molto aperto davanti, ok, sì, sì, però anche zero, cioè, perché no, devo un po' sperimentare ancora, cioè, chi, sì, io ultimamente ho letto, di qualcuno che gira con zero dietro, mi ha messo curiosità, ma l'ho letto recentemente, adesso, non so quando adorrerò su la nera, ma lo proverò, però così, o anche con gradi positivi, lo proverò in fresca, se riesco a ritrovare condizioni di fresca, come l'ultima che ho trovato, provo, no, dove hai girato Time Fresca l'ultima volta? L'ultima volta ero stati a Teodde Corones, che ha fatto, cioè, lo possiamo stati il giorno dopo, cioè, il giorno in cui è finita la, quando ancora nevicava, ma c'era tutto il fresco, ok, ok, e anche un mese fa, sono stati, tre settimane fa, bello, cioè, proprio, un giorno di boschetti pieni, capito? Ah, wow, c'era fatto due weekend consecutivi a Teodde Corones, la settimana prima era la lingua di neve in mezzo al verde, era proprio triste, e la neve era granita con panna montata sopra, cioè, proprio brutto, brutto, però l'abbiamo buttata a grappe e a preschizzo, e la settimana dopo abbiamo trovato sto paradiso, cioè, cioè, è stato proprio devastato, bellissimo, bellissimo, proprio bellissimo, proprio boschetti pieni, poi, paradiso, paradiso, Sì, 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 più o meno le condizioni che avevamo trovato quando stavamo su Conte in Austria, però noi ci siamo, quella volta che ci siamo persi, tutte, ci siamo persi male, una volta è male, non era il giorno che abbiamo sbattato insieme, eh, no, era il giorno prima, belle condizioni anche lì, e stavamo già andando bene, queste due uscite le abbiamo cercate bene. Eh, ma questa stagione, dai, è un po' meglio dell'anno scorso. Sì, c'è stato un marzo, no, il febbraio è marzo, inaspettato, insomma, sì, Giù, grazie di essere stata qui con noi, eh, in bocca al lupo per i Challenger, non so se la puntata uscirà quando già i Challenger saranno finiti, ma spero di farla uscire prima possibile, così possiamo venire tutti a tiparti, Giulia Bottazzin su Instagram, tra l'altro ci saranno le, ci saranno in diretta, cioè, ci saranno delle dirette, anche, sì, vero, ma sicuramente tramite la pagina Instagram ci saranno, lo diranno lì, penso che sia su YouTube comunque, però sì, ci sarà sicuramente poi il link, piatta diretta, sulla pagina Instagram. Vai a parlare male, vai a parlare male del fatto che la FIS ha comprato sto circuito, guarda, vedi, buttano dentro i soldi, arrivano in stream, no, beh, li facevano comunque anche, li facevano già, sì, 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 scusate, scusate, sì, niente, no, però figo, figo, dai, bocca al lupo davvero, io ti seguirò sicuro, e spero di, ripeto, di far uscire la puntata in tempo per farti tipare da tutti, e dai, spacca tutto, grande, e ci sentiamo, dai, magari ci riparemo un'altra sciata, in futuro, e magari avrei, ti porterà ancora, ancora più fortuna, ancora di più, dai, volentieri, volentieri, grazie mille, grazie ancora, buona serata, altrettanto, ciao, ciao, non proprio facile come Face, e, no, in realtà, non ne avevo mai fatto di così, quindi, quindi, sì, sono contenta, comunque di come è andata, più che altro era difficile da, da sopra, perché era tutta come, c'erano dei, dei roller, no, e quindi, cioè, tu arrivai da sopra e non, non vedevi, quindi dovevi essere, sì, a livello di orientamento, dovevi veramente, essere precisa, ecco, cosa che io non sono, quindi, sì, più che altro è difficile per quello un po', puoi, vabbè, puoi sempre, cioè, prendere linee più easy, diciamo, però, c'erano dei cliff belli grossi anche, comunque sì, c'è, anche i giudici hanno detto che era una Face da, da Free Red War Tour, quindi, quindi era, era bella tosta, e le condizioni della neve, non, sicuramente non hanno aiutato, quindi, con neve diversa, sarebbe stato più, un po' più facile, ecco, in realtà, fino a due settimane fa, due settimane fa, dicevano che, era praticamente, completamente vuota quella Face, cioè, non c'era neve, quindi, siamo anche stati fortunati, in realtà, che, sì, che ha fatto, quasi due metri, nelle ultime settimane.